Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. È arrivata la nuova Opel Corsa! È davvero divertente da guidare e ricca di tecnologia! E posso avere la benzina o elettrica da 149 euro al mese? Nuova Corsa con i Centivi Opel, tua da 149 euro al mese! Anticipo 2.284 euro, ta notte 99, tae gundice 3. 35 rate mensili, 15.000 km, rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 31 dicembre, salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Info su Opel.it Allora, a meno che un brano non suscita al 100% la mia attenzione, non farò più episodi singoli al riguardo, ma andrò a dire brevemente la mia opinione sulle uscite in generale della settimana. Quindi nasce questa rubrica che prende il nome dalla playlist delle uscite settimanali, quindi New Music Friday Italia. Parte 1. Vediamo un po'. In questa settimana abbiamo avuto Rove che ritorna con Pelé, un brano che secondo me spacca. Spacca di brutto. Non ci faccio l'episodio singolo perché non ho molto da dire, ho veramente poco. Sicuramente siamo un po' distanti da quella freschezza dell'esordio, quando un artista comunque emerge con un brano come Shakerando, ad esempio, è difficile poi eguagliare quella roba lì, però questo brano qui dimostra che il ragazzo è fresco, è in fotta, che a suo modo sperimenta, nel suo modo di essere, ed è in grado di creare delle vere e proprie hit senza forzare melodie o roba varia, semplicemente divertendosi. Certo, i concetti sono quelli, non ha detto nulla di nuovo, la metafora calcistica e via dicendo. Quindi magari squadra che vince non si cambia, per dirle in termini calcistici, almeno perlomeno dal punto di vista della pratica, di quello che va a inserire nel testo. Quindi poi lui è un gioco stilistico quello che fa e che secondo me funziona, è efficace, è fortissimo, è innegabile, però lo stesso discorso vale per Da Supreme, ad esempio, che torna con un singolo contedua, un singolo anche questo devastante, devo dire, in questa settimana le uscite mi sono piaciute molto, queste due in modo particolare, ma sono entrambe uscite su cui non ho niente veramente da dire. Io da Da Supreme, ripeto, non riesco a capirlo più di tanto, perché il vero problema non è che non capisco quello che dice, il vero problema è che lui, dalla mia prospettiva, è geniale dal punto di vista stilistico, dal punto di vista delle melodie, degli arrangiamenti, però fondamentalmente non è poi questa grande scima, da un punto di vista di visione intellettuale, è giovane, non mi sembra un ragazzo dotato di una grandissima cultura e quindi di conseguenza anche i suoi concetti sono i concetti di un ragazzo giovane come tanti che ripete un po' anche le stesse cose perché alla fine lui sta a casa a produrre, vive, ma è una vita diversa da quello di un ragazzo magari di 16 anni che si sta a sfragge là in mezzo alla strada e quindi anche lì non è che c'è tutta sta roba da raccontare se non i suoi sentimenti più profondi che prova dentro casa, che prova mentre produce, che prova andando a prendere un caffè al bar perché comunque è una star, è una star tra l'altro che vive un po' nell'anonimato non avendo mostrato più di tanto il suo volto, ecco. E quindi abbiamo queste due tracce fondamentalmente, poi andando a vedere abbiamo Milano dannata di Chiello, Chiello è uno veramente dei più forti, c'è da dire, chi l'avrebbe mai detto che da FSK sarebbe uscito un artista così? Però Milano dannata, io non l'ho ascoltata perché quando vedo i pezzi dedicati a Milano, anche i Baustelle mi hanno fatto, io mi rompo i coglioni, sono rimasto a Milano Milano di Diego Mancino che lo faceva il fidu di Inconfibra e mi è bastato Dargen D'Amico con la sua Amo Milano, quindi non me ne frega niente di sapere questa roba qui. Diamanti, Negramaro, Elisa e Giovanotti, un'attrice spietata, anche questa non l'ho ascoltato, Bugiardo, Le Carie e Fezzalmo, chissà che sono Le Carie, il brano non mi piace invece, l'ho ascoltato, e la session di uscite di Amici, quindi abbiamo Angelina Mango, Wax, e tutto quello che penso lo trovate in precedenza, ho fatto degli episodi specifici, cada uno, quindi non mi soffermo, c'è il ritorno sempre dal lato Amici di Ascanio, che praticamente è questo giovane artista che è uscito, che aveva fatto questa canzone Margot, una canzone leggerissima, simpaticissima, ma con una melodia veramente che arriva, un brano che funziona, infatti ha fatto un sacco di milioni di stream, per essere un ragazzo che era uscito appunto da Amici, e che segue un po' la stessa onda, in maniera un po' meno efficace magari, però comunque lui ha questo talento, diciamo, fondamentalmente questo, poi vado a scorrere, non trovo nomi che mi stimano, c'è Lumi, lui fuori da X-Factor, Disco Club Paradiso, insomma tutta la gente che ha fatto talent, tropea pure, tutta gente che ha fatto talent, e che insomma cerca di fare il mestiere dell'artista, non è facile, non è facile affatto, Silent Bomb con Mamma Oll'Ansia, lui uno dei rapper più forti, questa è una mina, uno schiaffo in faccia, come ogni sua canzone, uno dei pochi che veramente strava, fondamentalmente questo ragazzi, è uscito il disco di Nesli settimana scorsa, Nesli è un artista molto importante, purtroppo il mercato è proprio cambiato, quindi fa fatica anche lui a farsi sentire, però un disco è sempre una grande testimonianza, e lui è un grande artista, quindi più che un ascolto, merita un approfondimento, questo sì, e niente, New Music Friday del, ormai siamo al 18 marzo, del 17 marzo, finisce qui, che vi posso dire, brani carini ci sono stati, brani interessanti sì, ma manco uno che meritava un approfondimento, perché ormai la versione lirica, il testo, il concetto, il messaggio, è sempre più un lontano ricordo. Vedi, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni, per raggiungere l'equilibrio perfetto, tra forza ed eleganza, tranne per Peugeot 3008, in pronta consegna, e con 9000 euro di vantaggi, parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico, dal carattere deciso, linee raffinate, e l'innovativo Peugeot e cockpit, valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove, e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023, Scopri di più su Peugeot.it